Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete che Mauro Corona ha fatto la stagione, diciamo così, televisiva da Paolo Del Debbio nel programma Dritto e Rovescio e Paolo Del Debbio, diciamo, prenota Mauro Corona per settembre ma lui gli risponde raggelante, sento prima la Berlinguer. Beh, Mauro Corona super richiesto, opinionista che è stato cacciato da carta bianca, ha trovato casa a dritto e rovescio e proprio Paolo Del Debbio nel corso dell'ultima puntata del programma di Rete 4 mette le mani avanti per prenotarsi Mauro Corona per la prossima stagione televisiva. Però lo scrittore ci è andato un po' con i piedi di piombo nella speranza di un ritorno su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Dice, oh ho ascoltato Mauro, sono state le parole del conduttore nel tentativo di convincerlo. Dice, oh ascolta Mauro nel convincerlo, dice, guardami bene negli occhi a settembre ti voglio ritrovare qui, eh? Ma Corona ha tentennato non nascondendo l'asporanza di fare ritorno dall'amica. Paolo, vieni su che ne parliamo, domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice, quindi c'è già l'incontro con Bianchina a Vicenza. Del Debbio però non molla e dice, no no, me lo dici ora, se no finisco la trasmissione, prendo la macchina e vengo a Etro. Vedi che ti pare, alla Bianchina devi preferire il Bianchino che sono io, io a settembre ti aspetto, non fare il bischero. Corona era stato cacciato dal programma della Berlinguer dopo che aveva dato della gallina durante una sorta di litigata in trasmissione. Poi a volere il suo allontanamento era stato Franco Di Mare, direttore di rete. Però a nulla sono poi serviti gli appelli di Bianca Berlinguer dicendo, ma no, ma è stato un momento, non ci sono problemi, deve ritornare. Ma niente, Rai 3 è stata irremovibile, Mauro Corona non deve tornare in trasmissione, così Mauro Corona trova posto su Rete4. Ma perché questo? Cosa avrebbe di così interessante questo Mauro Corona? Alle televisioni interessa unicamente una cosa. Tu puoi essere simpaticissimo, intelligentissimo, di qua e di là, ma se non porti ascolti televisivamente non vale niente. Nel senso che per la televisione l'importante sono gli ascolti, perché gli ascolti portano pubblicità, gli ascolti portano pubblicità pagata di più, più soldi per la rete, più guadagno, più soldi per i conduttori. E così è l'audience, l'unica cosa che interessa. Quando le televisioni o i programmi televisivi si accorgono che quando c'è un personaggio l'audience sale, allora quel personaggio diventa contendibile. In realtà Mauro Corona interessa solo perché porta audience. Non interessa realmente quello che dice, se è schierato a destra, a sinistra, se è detto una cosa intelligente o ha balbettato dicendo una sciocchezza. L'importante per le televisioni è che Mauro Corona porti audience. se lo vuole Rete 4 e vuole magari di nuovo Rai 3 è perché c'è un interesse economico della rete, perché gli porta ascolti. Proprio a dritto e rovescio la Berlinguer aveva voluto mandare un video messaggio all'amico Corona. Mi hai tradito, però ti perdono. Intanto perché il tradimento è stata una causa di forza maggiore non dovuta alla tua volontà né alla mia e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di carta bianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma tanto come dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme e pare che non passerà molto, pertanto probabilmente nella prossima stagione Mauro Corona tornerà a carta bianca dalla Berlinguer. non so poi se questi personaggi, queste ospitate abbiano una sorta di esclusiva, però magari è un'esclusiva che non è scritta ma c'è. Non è scritta ma c'è, nel senso che se tu vieni da me, abbiamo visto un video, abbiamo fatto un video qualche tempo fa dove alla fine funziona così. Se tu vai come opinionista in una trasmissione però poi non devi andare dagli altri, se no ti caccio. Questa è l'idea. Pertanto un Mauro Corona che va su Rai 3 e poi su Rete 4 a fare l'opinionista di politica non piace questa condivisione. Però io direi alle televisioni che se vogliono l'esclusiva di una persona, a questo punto l'esclusiva la devono pagare. Non mi ricordo, avevamo parlato un tempo di quanto guadagnava Mauro Corona con la Berlinguer, un qualcosa come, se non ricordo male, come un 1500 euro al mese, qualcosa del genere. Niente di stratosferico, non poca cosa, ma una certa cifra che gli permette anche a lui di aiutarlo, un aiuto economico. Ecco, naturalmente se vuoi un'esclusiva perché porti audience, a questo punto i 1500 dovrebbero diventare 5000, 6000. Dice guarda, tu non girare le trasmissioni, stai solo nella mia. Sì, sto solo nella tua, però per 1500 euro al mese, magari lordi, ci devi pagare le tasse e tutto quanto, non è il massimo. Pertanto se vogliono evitare che lui vada anche su Rete 4 dovrebbero, dice io lo voglio tenere, allora fategli un contratto in esclusiva, però l'esclusiva si paga, l'esclusiva si paga. Naturalmente anche io quando ho lavorato in Rai per poco tempo, una settimana, mi hanno fatto un contratto dove l'importo è un importo lordo. Ti danno quello che è stabilito, che stabiliscono l'oro. Ecco, quasi sempre stabilisce la Rai, non è che tu ti metti a fare una controproposta. Ti danno un importo, partita IVA, ti dicono questo è, te lo metto più IVA e poi ci pensi e poi ci pensi tu a questo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete, dove trovate anche lì tanti sondaggi ai quali poter contestare, rispondere e commentare. Tra una ventina di minuti, se volete, ci sarà un altro video qui sul canale. Ci vediamo a presto e siamo anche poi in Facebook, nella pagina che si chiama Tele Italia. Grazie a tutti nuovamente, buona giornata.